Forse avrete sentito parlare di Ayao Miyazaki. È questo gentile vecchietto giapponese ed è conosciuto e amato come il Walt Disney degli anime. Personalmente penso che i suoi film siano un incanto, una poesia più vicina alla magia che al cinema. Forse conosce qualcuno dei suoi film come La Cetta Incantata, Il Mio Vicino Totoro oppure Il Castello Errente di Howl. Magari li hai visti tutti decine di volte e li sai a memoria. Ma questa? Questa è la storia di come Ayao Miyazaki divenne uno degli artisti più amati di sempre. Riconosciuto nel cinema, nei manga, negli anime e nella grande arte al pari di Picasso e Andy Warhol. Siete sconvolte di sapere che Ayao Miyazaki non voleva fare cartoni. Amava disegnare aeroplani. Viveva con i suoi genitori alla Miyazaki Airplane, un'azienda che produceva motori per vari aerei. Era la seconda guerra mondiale e gli aerei erano visti solo come un'arma potente e fondamentale. Non esistevano aerei di linea per i turisti. Sull'aereo c'era spazio per due, tre persone al massimo e qualche mitragliatrice. C'era un accordo, un'alleanza chiamata Asse Roma-Berlino-Tokio. E così Giappone e Italia collaboravano ogni singolo giorno. Il padre di Miyazaki costruiva i motori di importanti aerei, fra cui il Caccia Zero o il famoso aereo italiano con due motori, il Caproni K309 Ghibli, testato nei cieli della Lombardia dall'ingegnere aeronautico Giovanni Battista Caproni. Un uomo che sognava di fare aerei per tutti, aerei che non fossero armi. Immaginate un Miyazaki di cinque anni che corre sulle piste di atterraggio desiderando solo di volare anche lui. Peccato che non potesse volare. Cioè, non come tutti noi esseri umani, non aveva le ali. Il problema è che aveva un difetto agli occhi e quindi non poteva pilotare aerei. Così, aio Miyazaki, si laureò in economia e si preparò una vita noiosa in ufficio. Poi, poi cambiò tutto. Poi vide un film. Il re Lusignolo. Il primo film d'animazione surrealista. Quel film è una meravigliosa storia di un re vanitoso, di due dipinti innamorati l'uno dell'altro e di un popolo a cui è vietata la luce del sole. Fonte di ispirazione per Capè, del Gigante di Ferro e per Ayao Miyazaki. Purtroppo, per fare un film del genere, ci vollero trent'anni. Uscì solo nel 1980. Miyazaki lo vide incompleto. Poi ci fu un altro film. La leggenda del serpente bianco. Il primo anime moderno. Miyazaki si innamorò del cinema d'animazione e decise di farne parte. E così andò a lavorare alla Toy Animation, dove conobbe Isao Takahata e lavorò al suo primo film, La Grande Avventura del Piccolo Principe Valiant. Il film fu un flop. Un disastro totale. Ma in compenso fu l'inizio di una storia d'amore. E insieme lavorarono a Pandago Panda, Heidi, Anna dai capelli rossi e Pipi Calzelunghe. Ma poi cancellarono Pipi Calzelunghe perché l'autrice disse di no. E qui mi si spezza il cuore ogni volta, avrei voluto vederla. Ma in compenso lavorarono a Lupin III, in particolare Miyazaki, che cambiò tutti i personaggi e fece di testa sua. E creò una sua interpretazione di Lupin più umana, positiva e dinamica, l'opposto di quella di Monkey Punch. Questo, questo tizio molto molto giapponese, è Toshio Tsuzuki. Un ometto, ovviamente giapponese, non si era capito, con i capelli di John Lennon che credeva che Miyazaki e Takahata fossero dei geni. E così gli telefonò per fare una proposta. E niente, passarono un'ora a parlare di quanto non volessero parlare al telefono. Beh, per fortuna Toshio Tsuzuki non si arresi e chiamò Miyazaki ancora e ancora per chiedergli di fare un film. Il Castello di Cagliostro. Questo film parlava di Lupin, il ladro più furbo e imprevedibile di tutto il Giappone che si imbatte in questo castello in Europa, in cui si dice si è nascosto un tesoro. Ma pare non sia l'unico segreto del castello. E così Lupin si mette in testa di salvare la misteriosa fanciulla che è imprigionata in una torre. Torre che, tra l'altro, arriva da quel film francese, il re Lusignolo, è identica. Il film aveva pochi fotogrammi intercalari, aveva una trama poco interessante e un budget relativamente basso, ma Miyazaki fece un lavorone formidabile, un film frizzante, fresco, intenso, ricco di personalità. Uno dei miei film di Miyazaki preferiti. In Italia arrivò nel 1984. La serie animata era un successo, ma il film non ebbe nessuno dei doppiatori della serie. Inoltre aveva difetti di traduzione e censure. E quindi nel 1992 venne ridoppiato. E quel doppiaggio viene trasmesso tutt'oggi su Italia 1. Ma c'è anche un doppiaggio del 2007 che trovate nei DVD ed è il più fedele, il più diffuso e non a censure. Fu così che ayao Miyazaki fece amicizia con Tosho Suzuki e decise di parlargli di un'idea per un nuovo film animato. Era un'epoca in cui nessuno sospettava dell'esistenza dell'inquinamento e Miyazaki sentiva il bisogno di parlarne. Voleva raccontare la storia di un pianeta Terra distrutto, dove la giungla tossica aveva invaso il mondo, impedendo agli umani di respirare. Un mondo di insetti e deserto, conseguenza delle nostre azioni. Finché l'uomo non decide di iniziare una guerra contro la giungla tossica. Cioè l'uomo contro la natura. E la principessa Nausicaa deve fermarli. E così ayao e Tosho proposero il film ai produttori, che li guardarono in faccia e dissero no. E perché no? Perché non c'era un manga! A quei tempi nessuno voleva fare un film a caso, volevano certezze. Per esempio un manga. Se il manga aveva successo era più probabile che il film piacesse. Ma Nausicaa era un'idea troppo nuova. E per questo nessun produttore si fidò di una semplice idea. Il film non si poteva fare. E allora Miyazaki fece il manga. Fece il manga di Nausicaa della Valle del Vento e fu un successone. E così poi fecerò il film. Miyazaki si dimostrò un gran rompiscatole. Voleva che ogni cosa fosse perfetta. Fino ai più piccoli particolari. E aveva bisogno di sempre più animatori. Per esempio per il soldato titano dovette assumere un nuovo animatore. Idea a chi hanno. E fece un gran bel lavoro. O chi è, chi è idea, chi hanno. O nulla, nulla. Solo il creatore di Neon Genesis Evangelion. Il film di Nausicaa ebbe un successo immediato. Tutto il Giappone impazzì. E così si decise di pubblicarlo anche nel resto del mondo. In America... In America venne cambiato il titolo. Venne chiamato I Guerrieri del Vento. Tagliarono 22 minuti di film. E questa è la locandina. Allora, allora, questa è Nausicaa che ovviamente non è mica un personaggio importante. Quindi sta a lato. Poi c'è Han Solo che cavalca il soldato titano. Avete presente? Siamo fatti così? Ecco un globulo rosso ma incazzato. Non so chi sia questo e chiaramente qui qualcuno ha sbagliato film. Volete Miyazaki incazzato? Ecco come farlo incazzare. Miyazaki diede ordine di poter vedere l'adattamento americano sempre in anticipo d'ora in poi. Per poter decidere di annullare tutto se il film veniva censurato o modificato in modo così peota. E beh, il film ispirò altri film, videogiochi e poi... Il manga continuò a uscire fino al 1994. Sempre disegnato da Miyazaki in persona nel tempo libero. E allora Tosho Suzuki, Sautakata e Ayao Miyazaki decisero di usare i soldi guadagnati per aprire uno studio d'animazione. Uno studio che Miyazaki decise di chiamare come l'aereo di cui vi avevo parlato. Lo studio Ghibli. Che loro pronunciano Ghiburi. E gli americani... Ghibli. Ma siamo in Italia quindi Ghibli è il vento africano. Quindi Ghibli è l'aereo e Ghibli è lo studio. Giusto? Due anni dopo uscì il primo film creato dall'inizio della studio Ghibli. Laputa. Il castello nel cielo. La storia, tratta dei viaggi di Gulliver, parla di un'isola volante. Gli scienziati più grandi della Terra decisero di elevarsi dai plebei e usare le loro invenzioni per creare un paradiso volante, dove vivere indisturbati e procedere con le ricerche. Ma, ora che l'uomo ha inventato l'aereo, l'isola non si trova più. Perché non si può rinunciare al nostro pianeta. Non puoi rinunciare ad avere i piedi per terra. Una storia epica, una fiaba moderna e leggendaria, contiene tutti gli elementi dei film di Miyazaki. In tutti i suoi film ci sono esseri o macchine volanti, una vecchia signora divertente, una giovane eroina, un castello... E un importante tema sulla difesa della natura. Ascoltate come la colonna sonora avvolge lo spettatore e riempie di vita la scena. Questo è Joe Isaiishi, il compositore di quasi tutti i film di Miyazaki. Il 2 agosto 2013, quando il film venne ritrasmesso in tv in Giappone, tutti ne parlarono su internet. E quando dico tutti, intendo Guinness dei primati, con 143.199 tweet in un secondo. Fu il momento più twittato della storia. Non scherzo, potete controllare. Il film però non venne affatto distribuito in Italia. Al contrario. Al contrario, solo a questo punto, dopo l'uscita di Lapita, nel 1987, Nausicaa dalla Valle del Vento arrivò finalmente in Italia. Ma pubblicato a episodi come miniserie. Poi arrivò il 1988. Ve la ricordate questa data? L'animazione giapponese era sempre più diffusa in tutto il mondo. La Disney avrebbe pubblicato il film Chi ha incastrato Roger Rabbit, film in tecnica mista straordinario, su una Hollywood anni 40, dove i cartoni e i animati sono le star. Quel film puntava molto sulla nostalgia, facendo apparire tutti i più grandi cartoni del passato. Il più costoso mai prodotto, tutti i grandi cartoni del passato che collaborano allo stesso film, tutti riuniti in un film per sconfiggere il Giappone e salvare la Disney dalla bancarotta. E beh, in TV effettivamente, ve l'ho già detto, era più facile trovare un cartone giapponese che un americano. Serviva che un cartone riaffermasse la potenza dell'animazione USA. Ovviamente il Giappone aveva il suo asso nella manica, Akira, che vede la collaborazione di tutti i grandi dell'animazione riuniti in un solo progetto. E beh, era un progetto che gridava alla Disney ciò che il Giappone pensava della bomba atomica. Akira era un film violento, di enorme impatto, con una tecnica meravigliosa e ben gestita. Lo studio Ghibli non partecipò al progetto. A sua volta, però, era un piccolo studio e doveva pur sbocciare in qualche modo. E mentre decidevano in quale data pubblicare Akira per assicurarsi che ci fosse successo, mentre la Disney si preoccupava che sarebbero usciti altri film giapponesi e quindi doveva cercare di riportare la gente al cinema, la studio Ghibli ne approfittò per pubblicare un paio di film di Miyazaki Takata. Il mio vicino Totoro e Una tomba per le lucciole Una tomba per le lucciole di Sao Takata parlava di Di nuovo di guerra, con la tragica storia di due bambini che cercano di vivere in un Giappone morente, una nazione che sta perdendo una guerra, con un film disillusorio, terribile come la vita, amaro o straordinario. Poi c'era Miyazaki. Tutti parlavano di guerra e storie sul passato, il futuro, pessimiste o al massimo nostalgiche. Lui invece, Miyazaki, voleva fare un film bello e leggero. Solo una bella storia di ottimismo e magia. Vedete, la mamma di Miyazaki era stata malata di tubercolosi e lui portava questo brutto ricordo con sé da anni. Decise di fare un bel film su due bambini che si trasferiscono in campagna per la salute della mamma ed esplorando il bosco incontrano Totoro, il protettore della foresta, un soffice bestione amico degli alberi. Un sogno a occhi aperti. Fu definito il Biancaneve ai Sette Nanni Giapponese. La grande opera di Miyazaki. Disse che voleva che le protagoniste fossero femmine perché se fossero stati maschi gli avrebbero ricordato la sua infanzia e non voleva soffrire. Inizialmente c'era una sola bambina, ma divennero due quando Miyazaki doveva pur concludere la storia in qualche modo. E beh, avere due personaggi aiutava a creare un conflitto e a risolverlo. Miyazaki ha un modo di lavorare tutto suo. Non sa come finirà il film mentre lo lavora, cioè lui scrive la storia mentre lo anima. Il film non ebbe un grande successo economico. Solo un paio di anni dopo diventano un cult, tanto da avere un sequel dedicato al Gattobus. Cioè, il primo film in Studio Ghibli ad aver mai avuto un sequel. Poi, beh, c'è anche una replica della casa delle protagoniste che è visitabile, con tantissimi riferimenti a vari film e cartoni animati, ma divenne anche il nome di un asteroide, Totoro, e il nome di un asteroide è anche quello di un bruco, oltre che uno dei più grandi film d'animazione, i più importanti amati di sempre. Tanto da diventare subito il logo della Studio Ghibli, un'opera tanto semplice ma ricca di anima ed egregiamente realizzata. Ma ovviamente non arrivò in Italia! Non vi so nemmeno dire il perché, semplicemente nessuno lo doppiò, nessuno ci ha pensato. Lo studio però aveva bisogno di moltissimi film, e così decise di fare più film possibili contemporaneamente. Kiki consegna domicilio, per esempio. Mentre mezzo studio lavorava a Totoro e in metà a una tomba per le lucciole, un tizio era incaricato di lavorare a Kiki consegna domicilio, ma non ha importanza, perché Mia Zaki a un certo punto lo cacciò via e prese in mano il progetto. Odiava la sceneggiatura e la cambiò completamente riscrivendola. Decise di fare tutto il film per conto suo e propuso una nuova trama. E in un anno me lo rivoluzionò e lo fece tutto quanto da capo. Tratto da un libro di racconti dove Kiki vive tante piccole avventure antologiche affrontando piccole difficoltà, Mia Zaki decise di farlo un film più serio. Kiki affronta difficoltà enormi e deve faticare per la sua indipendenza. L'autore del libro si infuriò e decise di cancellare il film. Avete presente Saving Mr. Banks? Ecco, immaginate la stessa cosa con Kiki. Mia Zaki si era innamorato del film e riuscì a pubblicarlo un anno dopo. Vi è mai capitato di perdere la vostra abilità? Scrivere, disegnare, comporre, all'improvviso avere un blocco e non riuscire più a fare nulla? Ecco. Pare che fosse quello che era capitato a Mia Zaki. Non sapeva come concludere Kiki consegna domicilio, aveva tipo un blocco. Non ci riusciva. E pare che per questo decise di parlare di questo nel finale. Il blocco dell'artista. L'ultima grande lezione per Kiki è quella del blocco. E così perde i poteri. Ma li recupererà. Proprio come Mia Zaki ci è riuscito dopo tutto. Il tema centrale del film è l'indipendenza. La storia di Kiki che cerca di trovare un posto per lei. Un qualcosa in cui essere brava. Beh, vi riconoscerete tutti in questa storia. Si tratta di un rito di passaggio che tutti affrontiamo. Quel momento in cui lasci casa tua per fare qualcosa della tua vita. Ma hai un sacco di domande. E beh, puoi prendere ispirazione da Kiki per avere queste risposte. C'è chi vede il futuro, chi fa pozioni, chi cura gli altri, chi combatte. Poi c'è Kiki che sa solo volare, che razza di strega è. Non basta. Ma impara a conviverci. Impara a gestire la cosa e trova il suo modo personale di rendersi utile. E di vivere la sua vita. Il film è ben ragionato. Il carattere di Kiki è ben definito. Il modo in cui non si arrende ma al tempo stesso non sa che cosa vuole. Il suo senso del dovere che in più occasioni la fa sentire in colpa e una lezione dopo l'altra che possono insegnare molto a chi guarda con attenzione. E Kiki, come Totoro, non arrivò in Italia! E così iniziarono gli anni 90. La Disney era tornata al massimo potere in Occidente e con il suo rinascimento aveva fatto film di enorme successo ma anche in TV. Finalmente, accanto agli anime c'erano programmi con dei puppet e la nascita della Cartoon Network. Questo creò un ambiente molto più tranquillo in Giappone dove non c'erano più gare. Anzi, si era affermato ormai aveva il suo bel ruolo in TV. E fu un periodo di grande trasformazione per gli anime e la Studio Ghibli ebbe il suo primo enorme successo finanziario. Quale? Kiki consegna domicilio! E solo con questo ottenne la reputazione di casa che sfornava successo ad ogni film. D'altro canto, era ancora una piccola casa e non riusciva a pagare gli animatori. In genere, un animatore veniva pagato a disegno completato. Ma la qualità di questi film era altissima e per quei disegni serviva il doppio del tempo. Questo però significava che gli animatori della Studio Ghibli erano i meno pagati in tutto il Giappone. Così, decisero di selezionare lo staff e insegnare a ogni animatore il proprio lavoro. La scuola Ghibli. Quindi, di tenere gli animatori a vita. In genere, ogni animatore lavorava un solo film a un contratto a tempo determinato. Ma ora, poteva diventare un lavoro fisso. E Miyazaki decise di fare Porco Rosso, un mini film ambientato in Italia nella seconda guerra mondiale tratto da un manga di Miyazaki. Sì. Doveva essere un corto di 30 minuti per una compagnia di aerei giapponese. Ma Miyazaki se ne innamorò e ne fece un intero film. anzi, un filmone che parlava di Marco Pagot che era il nome di un italiano che aveva collaborato con Miyazaki in altri film. Marco era un aviatore antifascista che un giorno si era trasformato in un maiale. Perché un maiale? Ebbè, lo ha detto Miyazaki citando il film. Perché è meglio essere un maiale che un fascista. Sì, cioè, lui l'ha trasformato in un maiale solo per fare questa citazione e sinceramente non vedo un solo motivo per cui non sia una cosa geniale. Miyazaki era nato nel fascismo. Aveva visto i genitori costruire aerei e ora voleva fare un film romantico sul suo tema preferito. Il volo. Ma Porco Rosso ovviamente non arrivò in Italia! Anche questo film fece guadagnare un sacco alla Studio Ghibli. Riuscirono a spostare la sede della Studio Ghibli in mezzo alla natura in un ambiente perfetto e Ayao decise di fare un sequel ambientato in Spagna. Sì, un sequel di Porco Rosso, Porco Rosso 2. doveva parlare della vecchiaia di Marco un maiale che doveva lasciare il posto ai giovani avviatori ricco di storie da raccontare ma con poco da fare in cielo. Fu in questo periodo fu in questo periodo che Akira Kurosawa in persona il massimo regista giapponese davvero recuperatevi i suoi film sono fantastici disse che Ayao Miyazaki era un artista migliore di lui. Cavoli! Nel 1996 Miyazaki si stufò di fare cartoni. decise di lasciare il posto e di andare in pensione. Magari più avanti ma per ora voleva solo avere un'erede e scelse Yoshifumi Kondo. Secondo Miyazaki Yoshifumi Kondo era degno di portare avanti il nome della studio e così decise di cedergli un film che aveva scritto I Sospiri del Mio Cuore un film che parla di una ragazzina che vuole lasciare la scuola ma non sa che fare nella sua vita poi inseguendo un gatto incrocia un negozio che improvvisamente le cambia la vita. Kondo dovette fare un enorme lavoro per essere all'altezza del maestro aveva già lavorato a molti dei suoi vecchi film fra cui Kiki consiglia domicilio e il film fu il primo della studio Ghibli fatto a computer sì perché solo perché sembra che si è disegnato a mano non significa che sia stato animato senza l'aiuto del computer ogni disegno era composto in digitale il lavoro di Kondo fu straordinario un film che aveva ambientazioni credibili e nostalgiche una gestione dei personaggi praticamente eccelsa un'opera d'arte indimenticabile giocata su dei silenzi e su suoni è tutto così semplice e le ambientazioni delle scene con Baron cioè le ambientazioni delle scene con Baron vennero fatte da Nao Isha non so come pronunciare il suo nome insomma una giovane artista che piacque così tanto a Miyazaki che si presentò a sorpresa a una sua mostra comprò un quadro e la assunse per principessa Mononoke wow i sospiri del mio cuore uscì nelle sale e fu un successo decisero di fare un sequel chiamato la ricompensa del gatto e Kondo divenne importante quanto Takahata e Miyazaki diventando la nuova speranza per la studio Ghibli era riuscito a dimostrare di poter essere il degno rete di Miyazaki e così morì di un aneurisma a causa dell'eccessivo lavoro e non fece più nessun film cioè lui sarebbe stato un grande dell'animazione ma non lo fu e i sospiri del mio cuore ovviamente non arrivò in Italia in compenso Miyazaki decise di fare un ultimo film prima di andare in pensione negli anni 70 Miyazaki decise di fare un film sulla bella e la bestia sì davvero con una principessa costretta a sposare un gatto gigante ma molte delle sue idee erano già state usate per Totoro e non sapeva quanti fossero interessati a questo tipo di storia poi aveva un'altra idea quella di Boro il Bruco film che parlava delle difficoltà di un bruco che cercava di sopravvivere nella natura ma non riusciva a trovare un'idea per trasformarlo in un film di 90 minuti e poi ebbe l'idea Nausicaa della Valle del Vento era invecchiato ma il tema il tema della natura era più vivo che mai decise di fare una sorta di remake una storia più chiara eppure meno di da scalica secondo una leggenda giapponese infatti un tempo l'uomo parlava con gli animali poi si allontanò dalla natura e perse la sua capacità Miyazaki decise di raccontare questo passaggio nel medioevo giapponese dove l'uomo iniziò una guerra contro gli dèi della foresta Principessa Mononoke fu il film animato più costoso mai fatto in Giappone e divenne subito quello che guadagnò di più i critici amarono il suo immaginario epico indimenticabile ricco di significato e fascino negli Stati Uniti fu la Disney a distribuire il film e fu Harvey Weinstein a doverlo adattare diciamo che Harvey Weinstein è il cannarsi americano ma il suo problema non è essere troppo fedele ma l'esatto opposto non esserlo per niente Harvey Weinstein decise di pubblicare il film con una colonna sonora più pop sì e un sacco di censure e scene in un ordine diverso per cambiare trama e così Harvey Weinstein ricevette un pacco un pacco arrivato dalla Studio Ghibli da parte di Toshio Suzuki il produttore della Studio Ghibli il pacco conteneva una katana con la scritta no cazzo niente tagli in Italia invece il film venne tagliato eh già lo censurarono arrivò nel 2000 con notevoli censure sia nelle scene più cruente sia nel doppiaggio mi dispiace dopo il film Miyazaki andò finalmente in pensione e la sua vita divenne calma e tranquilla ogni tanto passava la Studio Ghibli per un saluto ma ormai la sua vita era cambiata e si trasferì in campagna dove conobbe cinque bambini di dieci anni che lo tormentavano e lui ci giocava volentieri e raccontava loro un sacco di storie e queste bambine amavano i film di Miyazaki gli proposero tante idee su film che avrebbero voluto vedere e Miyazaki rimase folgorato tornò alla Studio Ghibli con un'idea in testa voleva creare un'eroina per le bambine di tutto il mondo voleva creare la città incantata ma ho già dedicato un video a questa meraviglia una cosa che però non sapevo è che Miyazaki ne fece una denuncia sociale per la prostituzione c'erano queste terme dove le Yuna facevano messaggi che non erano massaggi se capite che intendo per conto della proprietaria la Pappona che in Giappone veniva chiamata la vecchia ovvero Yubaba sì Yubaba vuol dire Pappona in Giappone in realtà e così ogni massaggiatrice delle terme doveva rinunciare al proprio vero nome per proteggere la propria identità per non parlare di che paga la donna per avere in cambio affetto un affetto che però non può soddisfarlo e Miyazaki preparò il film che durava tre ore c'erano troppe idee e così doventero tagliare un sacco di roba ma il film fu leggendario fu il film d'animazione che guadagnò di più in Giappone fu adattato in inglese da John Lassiter proprietario della Pixar e regista di Toy Story vinse l'orso d'oro al festival di Berlino vinse l'Oscar come miglior film d'animazione ma Miyazaki non si presentò agli Oscar sapete? gli Stati Uniti erano in guerra con l'Iraq e Miyazaki disse di non volere assolutamente visitare un paese che ne stava bombardando un altro dopo tutto Miyazaki ce l'ha cresciuto con aerei fatti per bombardare quindi era abbastanza vicino al tema in Italia la Città Incantata arrivò come un film universal adattato da Teo Bellia o Bellia non so come si pronuncia come ti chiami Teo? non c'è nessuna Città Incantata però nel film cioè il titolo originale era Sento Chihiro no Kamikakushi dove il verbo Kamikakushi lo sto pronunciando malissimo ne sono sicuro indica quel momento in cui un bambino finisce nel mondo degli spiriti non che muoia ma venga rapito da uno spirito cioè un nome o meglio un kami visto il successo del film finalmente decisero di pubblicare anche gli altri in Italia e così diverse case doppiarono e portarono al cinema in VHS e in DVD Lapita il castello nel cielo Kiki consegna domicilio e il castello di Cagliostro volevano pubblicare anche tutti gli altri film ma per qualche motivo non lo fecero boh è un mistero vi giuro non ho trovato una sola motivazione e poche settimane dopo l'uscita di Lapita ritirarono dal commercio tutte le VHS e DVD e non si sa nemmeno il perché e resero così il doppiaggio uno dei più rari da trovare un doppiaggio che comunque adoravo cioè davvero magnifico poi Miyazaki tornò a riposarsi ah tornò in pensione basta basta film d'animazione in mezzo alla natura e non avrebbe MAI più fatto un film di nuovo ma stavolta per sempre siamo seri alla studio Ghibli nel frattempo era in produzione un nuovo film con un nuovo regista Mamoru Osoda Mamoru Osoda era un giovanissimo regista aveva fatto uno e un solo film film da cui hanno tratto una serie animata che forse conoscete Digimon e beh oggi conoscete Mamoru Osoda per The Boy and the Beast Wolf Children Summer Wars era la ragazza che saltava nel tempo Mirai o per aver collaborato a Doremi One Piece Samurai Champloo Dragon Ball ma non aveva ancora fatto niente di tutto questo cioè lui era all'inizio della sua carriera con la studio Ghibli e doveva fare un bel filmone il castello errante di Howl tratto dall'omonimo romanzo fantasy Mamoru Osoda però litigò con un po' tutti e lasciò il progetto e beh era un peccato lasciarlo lì da solo quel film con tante potenzialità no? E così Miyazaki partì per l'Europa per studiare l'ambientazione del film e tornò dalla pensione per fare il film La scrittrice del romanzo lo adorò e venne mostrato al Festival di Venezia ed ecco un nuovo capolavoro candidato agli Oscar e amato da beh quasi tutti c'è sempre il critico che lo odia come ogni film Ayo Miyazaki comunque vinse un Oscar speciale alla carriera e il leone d'oro alla carriera il premio più prestigioso che si possa ricevere e il film arrivò in Italia ma stavolta arrivò per conto di Lucky Red e Lucky Red stava cercando qualcuno che fosse abbastanza esperto di giapponese per assicurarsi di avere un doppiaggio fedele perfetto e proposero al progetto a Gualtiero Cannarsi e lo fece e piacque sì davvero il doppiaggio italiano di il castello l'arante di Howl piacque e basta e lo fece accannarsi e fu estremamente fedele e tutto il resto nel frattempo in Giappone Miyazaki nella sua lunga lotta per andare in pensione decise di cercare di nuovo un erede c'era questa scrittrice che aveva scritto il solito libro fantasy chiamato I racconti di terra e mare e tutti Disney compresa chiesero di poter fare un film anni prima anche Miyazaki lo aveva fatto ma solo dopo aver visto la città incantata la scrittrice decise e anzi iniziò a insistere che Miyazaki facesse il film ma Miyazaki voleva andare in pensione si sentiva vecchio voleva andare via e poi stava già lavorando al castellorente di Howl non poteva aggiungere un altro film così decise di dare una possibilità a suo figlio Goro Miyazaki aveva già collaborato col padre per vari film ma non è che Goro e Ayao avessero poi sto bel rapporto diciamo che non si parlavano diciamo che hanno ancora idee un po' diverse su che cosa sia un film così Goro Miyazaki fece il film e la scrittrice lo odiò e lo rinnegò come il peggiore errore che potesse mai fare e venne nominato ai Razzia Awards giapponesi come peggior regia e peggior film Goro Miyazaki non si dimostrò all'altezza di Ayao Miyazaki con un film debole per gli standard della studio Ghibli e beh Goro ebbe poi l'occasione di fare un altro film La collina dei papaveri ma non ha nulla a che fare con il grande Miyazaki anche se il grande Miyazaki si sperò al piccolo Goro per il protagonista di Pogno sulla scogliera voleva essere una rivisitazione della serenetta ma molto più Miyazaki e la fece sfondo un film semplicissimo infantile ma al tempo stesso maturo e intenso si davvero la storia di un pesciolino rosso che decide di diventare una bambina umana il film conquistò il festival di Venezia ed è tuttora considerato da alcuni critici come il suo film migliore tranquilli per me sarà sempre la città incantata in Italia venne adattato di nuovo da cannarsi e proprio come il film precedente fece un lavoro di traduzione certosina e fedele nulla da dire e Miyazaki finalmente tornò di nuovo a riposare e la studio Ghibli continuò senza di lui con dei film a cui lui aveva rinunciato come Arrietty la versione studio Ghibli di un film che aveva avuto fin troppi remake ma nessuno di animazione ancora o anche la collina dei papadri in Italia con Pogno al festival di Venezia si decise finalmente di pubblicare tutti i suoi film finalmente vi rendete conto che ancora non era uscito Totoro così la Lucky Red che aveva fatto doppiare a cannarsi il castello durante di Howl e Pogno decise di comprare tutti i film studio Ghibli e quindi praticamente tutti quelli di Miyazaki così nel 2009 21 anni dopo la sua uscita il mio vicino Totoro arrivò in Italia e poi porco rosso e poi i sospiri del mio cuore titolo scelto per marketing con grande dispiacere di cannarsi che preferivo un titolo del tipo tendi l'orecchio o drizzando le orecchie poi ridoppiò l'apita mantenendo la maggior parte dei doppiatori del 2004 ma togliendo le parolacce cambiando gravi pietra in aeropietra e cambiando il titolo in castello del cielo senza nominare l'apita ma cosa stai insinuando vecchio puzzone ma che vorresti dire diamine di un nonnetto scappate mi raccomando scappate per bene poi ridoppiò chi chi consegna domicilio e in seguito nausica della valle del vento stavolta senza censure e è un film tutto intero non episodi e cambiando alcuni termini rispetto al vecchio doppiaggio come giungla tossica che ora diventa mar marcio ho un guscio vuoto di mostro tar è immensa le sofia di un uomo l'ho salvato stamane è stato preso da un calabrone gigante era piccolo e l'ho portato con me era stato travolto da delle termiti e scambiandolo per un infante ho finito per usare il fucile fu con questi film che canarsi iniziò a diventare famoso per essere l'adattatore pazzo così ridoppiarono anche principessa mononoke stavolta senza censure ma anche con il famosissimo dio bestia davvero passò 16 anni ad adattare il film e lo fece comunicando giorno per giorno con la studio ghibli e poi toccò alla città incantata con pochissime differenze cioè davvero il nuovo doppiaggio della città incantata non è niente male abbiamo raggiunto il bel mezzo del nulla e infatti è in campagna sarà semplice una volta che ci saremo ambientati non resta che abitarla e così amarla finché non arrivi nella sala delle caldaie dove alimentano i termi lì c'è l'ingresso del locale caldaie è il posto dove si fa il fuoco è lo spirito del cattivo odore e a quanto pare è anche bello grosso si giura un dio putrido di te per di più un sommo putrido di grossa taglia piangerò e mamma baba mi sentirà allora correrà qui e ti ucciderà se te ne vai piango se piccino piange baba viene subito qui e finisce che ti ammazza che cosa ti hai dato ragazzina che cosa ti hai dato da papare devi scoprire da sola come salvare i tuoi genitori e a cu usa ciò che ricordi sia per i tuoi genitori sia per il tuo boyfriend drago non puoi che farcela da sola finalmente tutti i film della studio Ghibli erano arrivati in Italia egregiamente senza censure poi la nazione del fuoco decise di attaccare battuta a parte successa una cosa orribile arrivò un enorme tsunami che colpì dei rattori nucleari e in qualche modo anche la studio Ghibli nonostante le difficoltà lavorarono giorno e notte alla collina dei papaveri per il resto andò tutto bene tutti si salvarono e nessuno fu ferito ma i guadagni del film e così e così Miyazaki dovette tornare tornò ancora una volta stavolta per fare un film che fosse definitivamente il suo ultimo film un film che concludesse tutta la sua storia un film tratto da un suo stesso manga quando era piccolo e viveva con i genitori alla Miyazaki Airplanes di suo padre c'era questo aereo il Ghibli un aereo di Giovanni Battista Caproni e poi c'era il Caccia Zero il Caccia Zero era un aereo disegnato da Giro Orikoshi Miyazaki odiava il fatto che gli aerei fossero nati per volare per sfidare la gravità ma invece venissero usati come arma come era possibile che un oggetto pensato per realizzare un sogno venisse usato solo per bombardare lanciare volantini e seminare distruzione guarda caso proprio come l'animazione per tutta l'infanzia di Miyazaki tutti i cartoni erano propaganda di Hirohito Mussolini e Hitler e i cartoni animati venivano usati come arma ed è questa questa è la storia di Giro che voleva fare aerei per volare e venivano invece usati per uccidere il film divenne più realistico più toccante più personale per Miyazaki e ovviamente fu un successo il suo finale successo arrivò in Italia come tutti gli altri film Lucky Red e Gualtiero Cannarsi candidato agli Oscar perse contro Frozen il film parlava di tutta la storia di Giro come di Miyazaki fino a quel momento in cui il decennio finisce Giro si deve mettere da parte e così fa anche Miyazaki che lasciò definitivamente la studio Ghibli e fu l'unica volta in cui Miyazaki pianse in pubblico guardando un suo film mettendo in chiaro che stavolta Miyazaki era serio sarò breve ho annunciato più e più volte che mi sarei ritirato quindi penserete che questa sia un'altra di quelle volte ma vi assicuro che adesso faccio sul serio e subito dopo uscì la principessa splendente di Isao Takaata che andò in pensione e poco dopo morì senza Miyazaki e Takaata la studio Ghibli portò avanti qualche progetto come il videogioco Ninokuni ma nulla di duraturo e così nel 2014 la studio Ghibli chiusi i battenti definitivamente chiusa basta la vita di Miyazaki cambiò radicalmente decise di vivere poco lontano dalla studio Ghibli dove aveva lavorato per tanti anni vicino a un asilo ricco di bambini che ogni giorno passando davanti a casa sua tutt'ora salutano le caprette di Heidi e Aya ovviamente le tiene in bella vista da sempre una bella vita di pace e solitudine Miyazaki purtroppo iniziò a degradare con la vecchia Aya facendo sempre più fatica a muoversi a lavorare nel 2016 non ce la fece più non ce la fece più a non fare niente e decise di creare un nuovo cortometraggio beh non è esattamente tornare dalla pensione fare un solo cortometraggio era un corto che lui rimandava da tanto tempo Boro il bruco corto che realizzò in computer grafica dovete riaprire gli uffici vuoti e dovete lavorare con dei nuovi giovani animatori dentro i vecchi cari edifici della studio Ghibli che ormai erano vuoti da anni potete vedere il documentario Neverending Man dove Miyazaki crolla scoprendo che alcune delle persone con cui aveva lavorato a tanti bei film erano morte perché Miyazaki era ancora vivo perché le persone a cui teneva no e fu così che dopo Boro il bruco Miyazaki si decise se doveva proprio essere vivo se doveva proprio continuare a vivere doveva farlo al meglio con l'età non poteva più lavorare tante ore come aveva sempre fatto e così decise di lavorare a un nuovo film recuperò tutti i vecchi lavoratori che poteva e un sacco di nuovi animatori non è più in pensione sì la studio Ghibli che è rimasta chiusa tutto sto tempo ora riapre il titolo per ora è E voi come vivrete che potrebbe anche essere tradotto come Scegli la tua vita sta lavorando al film da ben 4 anni e non si sa quando sarà finito ma Miyazaki non sta lavorando a un solo film ma a due e ancora non si sa nulla sull'altro dice che vuole con questi film lasciare un messaggio per suo nipote il nonno se ne andrà presto all'altro mondo ma sta lasciando questo film dietro di sé perché ti ama temendo di non poterlo vedere finito Miyazaki sta cercando di finire in anticipo lo storyboard così che il film sarà finito da altri se a lui dovesse succedere qualcosa alla fine c'è un motivo se Miyazaki è tanto amato che sia una storia semplice o complicata per bimbi o per adulti tutti hanno qualcosa da imparare ogni aspetto del film è ben realizzato guardatelo quanto impazzisce ogni volta che un personaggio deve muovere gli occhi in un modo o in un altro come i suoi ciuffi devono essere animati o che cosa deve succedere laggiù sullo sfondo anche col minimo dei soldi anche con un maremoto Miyazaki promette sempre un buon film un'opera d'arte una deliziosa esperienza di un vecchio signore che vuole sempre raccontare una qualche storia che vuole ogni volta